Siamo col Vice Sindaco del Comune di Camastra, Vincenzo Urso, il quale ci parla dell'impianto di sorveglianza che lui stesso ha fortemente voluto per la sicurezza del Comune. È un piacere dire e comunicare a tutti i nostri cittadini che finalmente a Camastra, pure al Comune di Camastra, abbiamo fortemente voluto e ci siamo riusciti sul progetto della videosorveglianza. Voglio comunicare a tutti i cittadini che l'impianto di videosorveglianza è già attivo, tutte le uscite e tutte le entrate del Paese sono già tutte coperte, abbiamo avvisato già i carabinieri, gli organi combatenti e aspettiamo di definire il progetto perché il progetto prevede pure tre punti wifi liberi per il Paese e poi faremo le giuste comunicazioni in merito a tutto il progetto già eseguito, già fatto. Tra l'altro per la sorveglianza generale stiamo vedendo quanti sono importanti queste telecamere nei luoghi pubblici, vediamo anche quello che è successo in tantissimi comuni ma in tantissime anche grandi città metropolitane che spesso succedono dei atti violenti e grazie proprio a queste telecamere si riesce a individuare chi è stato. Ma è un progetto voluto ripeto fortemente da questa amministrazione sottoscritta dal sindaco innanzitutto per saguaguardare la nostra cittadinanza, il nostro Paese, i nostri cittadini, tutte le scuole elementari, medie sono pure coperte di videosorveglianza quindi è a saguaguardia di tutta la collettività dei cittadini camastresi. Con suo parere su questo consiglio comunale è un giorno importante dovuto a queste sentenze che se vanno in porto il comune dovrebbe sborsare oltre 500 mila euro per le comunità alloggio, diceva il sindaco che non è un problema raziale ma è solamente un problema sostanziale e economico. Assolutamente non è un problema raziale, anzi sono benvenuti e benvoluti anche perché non hanno mai dato disturbo nel nostro Paese, si sono sempre comportati questi ragazzi in maniera egregia ma è soprattutto un problema economico, noi come amministratori abbiamo l'obbligo di saguaguardare le casse del nostro comune, di saguaguardare i nostri cittadini. Quindi faremo tutto e per tutto che queste somme richieste dalle due cooperative non vengano completamente date perché viceversa significa andare a tassare i nostri cittadini.